Ma non lo so, ma non lo so, ma non c'è niente, non c'è qua dentro, non c'è più niente, non c'è da mangiare, ma... Mi siete mangiati tutto quanto, vi siete mangiati, ma ho lasciato qualcosina per noi altri, nei bidoni almeno, no? Una bigliaca che... Son venuta qui a mangiare l'erba in un greppo, son venuta a mangiare, non lo so, non lo so, non lo so... Mi segui di continuo dappertutto, mi segui con sto bagaglio, cosa che ti devo dire, cosa ti devo dire, che c'è il sto spettacolo il 13 e il 14 aprile, l'avete capito sì o no? Non lo so, al teatro Concorde siamo, di Borgo Maggiore, San Marino, alle ore 21 fate divenire, ma non lo so, non lo so, dovete mandare un'email, dovete mandare... Mi hanno detto così, mi hanno detto... E lì c'è tre, c'è la gmail.com, punto... Prenotateli sti biglietti, no? Anche voi altri? Non lo so, ma... Vai via con sta roba che c'ho da fare io, c'ho, che c'ho tutta a cercare la roba, c'ho... Qua in mezzo all'erbetta, vè... Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so...